Restano ancora da chiarire i dettagli di quanto accaduto questa mattina in via Parmenide a Salerno sul cavalcavia nel quartiere di Mercatello dove un pluripregiudicato di 42 anni con diversi precedenti anche per droga si è buttato giù da un parapetto compiendo un volo di qualche metro mentre i carabinieri eseguivano degli accertamenti sul posto in seguito alla denuncia di un'auto rubata. I militari sono giunti in via Parmenide prima delle 9 seguendo il segnale del GPS dell'antifurto satellitare di cui era dotata la vettura rubata, una Kia. L'uomo che era fermo in un angolo a fumare nei pressi dell'attività commerciale, poltrone e sofà è scappato via ed è fuggito buttandosi giù. E' stato dunque necessario l'intervento anche dei mezzi di soccorso e ricovero presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per il presunto ladro. Su posto i militari del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale dei carabinieri di Salerno che hanno eseguito una serie di rilievi anche per accertare l'identità dell'autore del furto. Le condizioni di salute del ferito non sono gravi. Grazie. 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 Grazie.